E' stato verticalmente Cannavara a cercare Treseguet, la sponda interessante verso Candreva, prova a destro! 3 a 0 Juve! 3 a 0 Juve! Anche Candreva! Che partenza ragazzi, ma che gol! Poteva calciare subito perché vedi erano pressati tutti, palla lunga verso Treseguet che di sponda, sempre per Candreva, lo dicevo che grande condizione, accompagna benissimo l'azione, lo stop e il tiro, imprendibile per Curci, stupendo, una Juve incredibile. Una Juve pazzesca in questi primi 600 secondi neanche, in realtà sono 590 in questo momento, 3 gol, 3 tiri, 3 gol, hai detto giustamente, Malesani prova a dare indicazione a Vergassola, rivediamo tutto quello che è successo. Vediamo che è bravo, la sponda, lui può calciare subito, invece stoppa la palla perché il terreno non è perfetto e poi trova un tiro incredibile, guarda come la tiene, trova anche un po' il rimbalzino giusto per poter calciare lì, collo pieno, a incrociare, bellissimo. Secondo calicampionato per Candreva, eccolo qua, splendido l'angolo che riesce a trovare, splendida la battuta a rete, è davvero incredibile l'inizio di partita, 3 a 0 in 10 minuti è quasi un record, forse è un record. Credo ieri anche il Lecce ha contro il Cittadella.